Nel padiglione off della Galleria d'Arte Civico 111 è sposta From the Sea l'ultima scultura dell'artista Maurizio Russo realizzata appositamente per Abbiamo Tutto ma anche il resto, la mostra evento UE Eventi Urbani e Farm Cultural Park inaugurata da Roberto Collodoro lo scorso 22 giugno, nei nuovi locali in via Sanatore Damaggio. L'idea fondamentalmente è nata proprio dalla natura perché io non decido nulla nel senso che io vado in giro per le spiagge a recuperare legni di mare e cerco di scegliere le forme più strane, più originali possibili che madre natura ci riconsegna dopo le mareggiate o gli sversamenti dai fiumi che si trovano. Io già da qualche anno recupero legni di mare e tiro fuori proprio il meglio che ci potesse essere di madre natura, sia del legno stesso. Una lampada artigianale unica al mondo, alta 160 centimetri e sorretta da una base marmorea. Alla sua estremità l'artista gelese ha appeso una lanterna spinta verso il basso dalla gravità. Lungo il serpente artistico sono stati inseriti due leggeri allacciature con filo di canapa, quasi a dominare le forme dell'imponente scultura. Io sono per il riciclo e lavorare i materiali naturali che si trovano proprio nelle spiagge, nelle nostre spiagge. Anche tu hai voluto fortemente partecipare a questa manifestazione così importante, una quadriennale che rientra nel percorso di UE 20 Urbani. Sì, certo. Io da gelese sono onorato a far parte di questo progetto perché Gela deve avere bisogno di queste iniziative. Io ringrazio Roberto Collodoro che è stato uno dei promotori assieme agli altri a costituire questo evento che è nobilissimo per la nostra città. Io un appello che faccio è che l'amministrazione comunale ci stia ancora più vicino e collabori proprio con quelle persone che hanno voglia di fare. Appunto abbiamo tutto, il nome proprio dell'evento è azzeccato nei migliori dei modi che ci possa essere. L'unica cosa che diciamo è che tutte le amministrazioni comunali ci siano vicine. L'evento artistico è inserito nella quadriennale transdisciplinare dedicata alla Sicilia, ideata e promossa da Farm Cultural Park. Le aree espositive esaltano la sicilianità, mentre dal terrazzo si scorge la cupola della chiesa madre. I prossimi impegni che ho sono al Palazzo della Cultura di Reggio Calabria e nel periodo estivo sarò ospite per circa 15 giorni al castello Arbonormanna di Butera.